E oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato tra drammi e nuove emergenze. Ne parliamo in studio con Pino Fabiano, direttore regionale di Migrantes. E torniamo a parlare della giornata mondiale del rifugiato istituita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite che si celebra oggi. Ne parliamo con il nostro ospite in studio, Pino Fabiano, direttore regionale di Migrantes. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Abbiamo sentito prima che si faceva riferimento in apertura al naufragio a largo della Grecia. In Calabria purtroppo abbiamo avuto a febbraio il naufragio di Steccato di Cutro. Migrantes dice che questi episodi si potrebbero evitare, ma come? È evidente che già è successo. Abbiamo istituito come Europa, come Italia, l'operazione Mare Nostrum, che era l'operazione che consentiva i salvataggi delle persone. Noi lo chiediamo a gran forza da tempo, perché crediamo che al di là poi dell'accoglienza, dell'integrazione delle persone, la dignità della vita vada preservata sempre. È evidente che in un mondo in conflitto come il nostro, ricordo che ci sono 46 paesi nel mondo in conflitto, le persone si muovono, la mobilità è legata a questo tema. Nella strage di Cutro la maggior parte erano afghani, quindi provenienti da un territorio in cui siamo stati come occidente per 20 anni, quasi occupando quelle terre e ora lasciandole in preda ai talebani, che reprimono le giovani donne che non possono più andare a studiare, che devono usare il velo o devono stare chiuse in casa. Si parla di guerre a volte dimenticate, perché sono forse geograficamente lontane. Si è ricominciata a parlare di guerra ora con la guerra in Ucraina che è alle porte dei nostri territori. C'è una percezione differente delle guerre? Evidentemente, la guerra in Ucraina ha scatenato in noi una certa sensibilità, una certa attenzione, perché evidentemente è alle nostre porte. Abbiamo avvertito il pericolo che arrivasse la guerra anche da noi. Probabilmente mi permetto di dire anche il colore della pelle, anche il fatto che gli ucraini siano più vicini all'Europa rispetto ai fratelli africani. In Europa e nel mondo ci sono guerre come quella siriana che produce in questo momento quasi 7 milioni di profughi, la guerra in Venezuela che non abbiamo mai sentito nominare, la guerra in Sud Sudan, nel Myanmar, milioni e milioni di persone che si spostano nei paesi vicini proprio perché c'è la guerra. L'Ucraina è stata eclatante, perché chiaramente sta sconvolgendo un po' la guerra trogana in Russia e anche gli equilibri mondiali in termini economici. Però ecco, dovremmo forse avere più memoria, essere più capaci di stare attenti anche a capire che nel mondo quest'anno abbiamo toccato il numero record di più di 100 milioni di persone in fuga, cioè persone che sono costrette. Che poi è uno dei motivi principali per i quali ci si sposta. Rapidamente, stasera ci sarà un evento proprio in occasione della giornata dei migranti? Stasera organizzato dal Cielo Servizio Volontariato e dal Cineforum Falsomovimento in occasione di Cosenza Capitale Volontariato ci hanno chiesto di... ci sarà la proiezione del film Europa, che è questo film che racconta la storia di un iracheno che attraverso la rotta balcanica arriva in Europa. E noi proponiamo un dibattito, un incontro con tre voci. Abbiamo scelto la voce di Azifa, che è una studentessa dell'Unical afghana, la voce di Maria, che è un medico d'un toiatra ucraino, e la voce di Fofana, che è maliano. Ricordiamo dove e a che ora? Cinema Citrigno, ore 18.30. Grazie a Pino Fabiano, direttore regionale di Immigrantes. Grazie a Pino Fabiano, direttore regionale di Immigrantes.